Io sono favorevole, non da oggi, ad un'ostensione permanente della Sindone, l'ho anche parlato più volte con l'Arcivescovo. Mi auguro che questa ostensione possa essere l'ostensione che apre la prospettiva di una ostensione permanente, perché è giusto che quella reliquia così preziosa possa essere visitata in qualsiasi giorno dell'anno da qualsiasi persona. Tra l'altro questo consentirebbe un'accessibilità, una fruibilità anche migliore e maggiore che non dover concentrare centinaia di migliaia, milioni di persone in poche settimane. E credo che l'ostensione permanente rappresenterebbe per tutti i credenti un fatto di straordinario valore e per la città un elemento di forza. A me è capitato qualche tempo fa di parlare con una persona significativa e importante londinese, parlavamo di Torino, e a un certo punto lui mi ha detto Torino ha alcune cose che non hanno altri e che si possono vedere soltanto a Torino. e mi disse Torino ha la Sindone e Torino è il secondo museo egizio al mondo. Queste cose da altre parti non si trovano. E aveva ragione. E quindi io penso che abbiamo il dovere di valorizzare al massimo, in primo luogo per cosa rappresenta in termini religiosi e di fede, e poi cosa rappresenta in termini anche civici di identità della città, la Sindone. Grazie. Grazie.